Al Winterland di Siderno, la Befana arriva in piazza con la distribuzione dei doni, una mattinata dalle 10 alle 12 all'insegna della gioia per i più piccoli, grazie all'iniziativa voluta da Lions International. Siamo qui riuniti oggi insieme ai nostri Club Lions di Rocella e di Siderno per organizzare una giornata soprattutto rivolta ai bambini in questo caso, durante il giorno dell'Epifania come da tradizione per donare dei dolcetti in maniera tale da avvicinarci alla nostra comunità in questo giorno di festa e iniziare l'anno con una dolcezza in più. Sono orgogliosa oggi di essere in questa piazza Portosalvo di Siderno in quanto avremo modo, se possibile tempo permettendo, che i bambini vengono oggi giorno dell'Epifania, vengono ad avere un momento di dolcezza in questo periodo che spero inizi per tutti sotto un nuovo auspicio. Dolcetti che come simbolicamente daremo oggi dolcetti, ma è una dolcezza che spero che ci sia per tutto l'anno. Noi siamo qui presenti, speriamo che ci verranno tanti bambini oggi e noi agiamo sul nostro territorio per il benessere di tutti, oggi per i piccoli al motto del GuiServe. Oggi siamo qui riuniti per dare il contributo per la festa dell'Epifania ai bambini insieme al nostro Leo Club. Quindi hanno organizzato dei doni, dei dolcetti per far sì che questa festa sia un giorno di gioia anche per i bambini. Grazie.